se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio è perché ti mancano le conoscenze per progredire noi di battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze academy punto fatto scacco punto com ciao a tutti amici di matto scacco ben trovati gli scacchi sono senz'altro un gioco creativo un gioco di fantasia dove il giocatore più eccentrico riesce a creare qualcosa di incredibile all'interno di questo spazio chiuso che chiamiamo appunto scacchiera dopo questa premessa premessa dovuta per la partita particolare che vi mostrerò quest'oggi tra danil di ubof quindi un giocatore abbastanza quotato riconosciuto tra i migliori giocatori attualmente dello scenario internazionale che con quasi 2800 punti rapidi affronta il suo avversario nonché magnus carsen ovviamente il nero non ha bisogno di presentazioni campione mondiale in carica e qui vediamo un incontro tra due giocatori molto creativi e 4 c5 cavallo c3 sorpresona sulla scacchiera h5 nel mio database è comunque nel database che trovate diciamo a disposizione di tutti su internet questa mossa non è considerata perché non è considerata perché realmente nessuno da nero nessuno quasi in questa posizione decide di giocare questa mossa h5 che è un po come un regalo di un tempo tutte le aperture ne in comune il controllo delle case centrali e quindi h5 che cosa potrebbe mai fare forse controllare questa casa g4 oppure forse in caso di rientri in posizioni più comuni più principali avere un ruolo però non è chiaro da spiegare forse qui carsen voleva semplicemente giocare a scacchi giocare a scacchi non dimentichiamo che esiste anche una modalità che si chiama random un fischer dove tutti i pezzi vengono invertiti nella posizione iniziale e il giocatore più creativo dimostra di essere il più forte h5 è chiaramente una mossa strana e qui di ufo gioca un'altra mossa altrettanto strana il cavallo in h3 però il cavallo dal lato tende sempre a spostarsi verso il centro e quando si sposta al centro potrebbe prendere di mira a questo punto h5 e 6 sulla scacchiera b3 b3 scelta altrettanto creativa probabilmente l'idea è cercare di anticipare questa g5 per poter prendere spazio con alfiere b2 creando fastidi contro quella torre che purtroppo per il nero non è difesa cavallo c6 alfiere b2 g5 di ufo si aspettava questo sviluppo da parte di carsen ed effettivamente se il nero gioca h5 probabilmente in un secondo momento vuole affiancare quel piedone per creare appunto un gioco dinamico cavallo b5 sulla scacchiera il cavallo mette in pericolo questa torre avversaria e soprattutto sta creando un tema di sovraccarico la donna deve controllare la casa c7 e deve controllare il punto g5 quindi in questo momento con mossa bianco probabilmente potremo giocare cavallo per per poi creare il doppio e 5 sulla scacchiera unica mossa o meglio in parte che potrebbe creare difende senz'altro la torre ma permette cavallo g5 cavallo g5 in questo momento è un sacrificio di pezzo interessante chiaramente sulla cattura immediata seguirebbe il doppio fantastico e semplice per il nero per il bianco tuttavia ci sarebbe ancora un intermedia potrei giocare pedone a6 e nel gioco di creatività nella partita che stiamo osservando non è da escludere che qui il bianco con il sacrificio del cavallino f7 attaccando donna torre obbligando la cattura possa giocare questa posizione in fondo il re del bianco il re del nero è scoperto un po per tutta la partita soggetto ad attacchi su case chiare e dopo aver arroccato lungo aprire la posizione potrebbe creare abbastanza contro gioco dopo cavallo b5 arriva e5 e alfiere c4 è un piccolo miglioramento della variante che avete appena visto perché il cavallo potrebbe saltare in g5 per poi catturare f7 difeso dall'alfiere d6 sulla scacchiera arrocco corto vediamo un po cosa può accadere sul cavallo per g5 probabilmente visto che l'alfiere è andato via carsen è disposto a entrare in questa posizione io ti catturo il cavallo tu mi del doppio poco importa sposta il re mi catturi la torre e dopo che ti catturo g2 è da dimostrare chi stia meglio tra i due perché questo cavallo difficilmente uscirà dall'angolo e il bianco tante mosse che possono creare fastidi alfiere g4 è la prima che mi viene in mente ma anche la semplice donna per e4 o donna per h2 darebbe abbastanza compenso per la qualità sacrificata dunque dopo d6 arrocco corto a6 scaccia il cavallo che tornando indietro permette g4 e guardate che posizione particolare perché dal nulla il cavallo bianco che lì in h3 aveva un ruolo e adesso è rimasto senza case f4 sulla scacchiera pedone cattura h3 alfiere per f7 sembra una di quelle partite eccezionali immortali e classiche in cui si sacrifica tutto il materiale possibile per cercare di dare matto di un boffo un giocatore creativo lo dicevo prima carsene altrettanto e qui carsena due pezzi in più due pezzi per il nero per difendere questa posizione il giocatore che è in vantaggio spesso cerca di restituire il vantaggio per limitare il contro gioco avversario e quindi qui carsene a due pezzi per poter restituire materiale la partita prosegue donna scacco donna g5 qui stiamo costringendo al cambio altrimenti il nero comunque sia catturerà lui in g2 cambio delle donne i pezzi in meno sono comunque due e come dicevo prima adesso arriva il cavallo c7 che attacca comunque sia questi due punti e come dicevo prima il giocatore che è in vantaggio di due pezzi è sempre pronto a restituire per avere posizioni più comode cavalle 6 il re di carsene scoperto non è più difeso da nessuno e quindi si cerca di attaccare di avere compenso torre f8 sulla scacchiera chiaramente anticipando questo scacco cercando di rifugiare il proprio re nero verso zone più sicure torre scacco e re si sposta cavallo f5 scacco e re si sposta ancora e adesso che il bianco cattura questo pedone il parziale dice occhio il nero ha comunque il pezzo in più il nero un pezzo in più il bianco non sembra avere abbastanza compenso tutte le semplificazioni aiutano il nero cambiamo le torri centralizziamo il re a questo punto è il momento di portare ulteriori pezzi in gioco b4 scelta molto bella da parte di carsene vuole conquistare la casa centrale quando il pedone da c3 andrà via il cavallo in d4 si troverà benissimo g5 sulla scacchiera nuova manovra da parte di carsene che decide nuovamente di semplificare cercare di proporre un cambio di cavalli consapevole che il bianco non possa accettarlo torre h7 sulla scacchiera h4 torre f7 adesso occhio siamo già pronti alle semplificazioni semplificazione che avviene il cavallo nero si sposta in g7 per difendere il punto h5 e purtroppo per diuboff una questione di tecnica spesso accade che vediamo un video vediamo un libro leggiamo un libro e c'è scritto beh questa posizione si vince per questioni di tecnica ok che significa diciamo che ci sono dei momenti in cui un giocatore ha un vantaggio evidente un vantaggio lineare e per qualsiasi cosa possa fare l'avversario purtroppo non c'è modo di difendere come vedete il cavallo attacca un pedone e obbliga il re del bianco a ottenere e avere una posizione passiva questo significa che se il re del bianco si trova qui io ho gli altri pezzi svincolati per far qualcosa e infatti il nero si sposta attiva l'altro cavallo e per questioni appunto di tecnica semplicemente migliora la sua posizione il cavallo in due mosse salta in c5 attacca il punto d3 il bianco non è più in grado di difendere quel punto e nel giro di qualche mossa si perderebbero i pedoni sia a destra che al centro della scacchiera ma anche sul lato di re e quindi non resta altro che abbandonare partita spettacolare creativa direi partita di altri tempi giocata tra dubov e carsen e 6 sulla scacchiera b3 cavallo c6 g5 scelta eccezionale e offensiva senz'altro da parte del campione del mondo che con questi due pedoni vuole cercare di creare problemi contro il lato di re del bianco e 5 giocata da carsen alfiere c4 vuole puntare l'ingresso linea f7 e d6 lo impedisce a rocco corto pedone a6 ti scaccio ti mando indietro e dopo g4 il pezzo intrappola chissà se dubov aveva considerato questa posizione era consapevole di entrare in questa tagliente e situazione oppure si è ritrovato donna f3 promettente perché vogliamo entrare un po in f7 vogliamo entrare in g3 e quindi alfiere 6 impedisce l'ingresso più pericoloso donna g3 scacco donna g5 obbligando il cambio delle donne e cavallo c7 se dubov voleva entrare qui avrebbe dovuto considerare questa posizione prima alfiere d6 cavallo e6 e carsen a carsen non resta che cercare di difendere il proprio re e così ci riesce perché porta il suo re dal lato dal lato dove stava da quel lato di re verso il lato opposto in una posizione più sicura per questioni di tecnica utilizzo nuovamente questa parola non resta altro che semplificare quindi g4 sulla scacchiera cavallo f6 cercando nuove semplificazioni e il pedone b importantissimo crea questo contrasto sulla casa c3 quando il bianco spingerà quel pedone e prima o poi dovrà muovere quel pedone al nero non resta altro che il controllo totale della casa centrale d4 avamposto lì al centro della scacchiera adesso la partita continua nero migliora il bianco non può accettare semplificazioni e però è costretto è costretto a semplificare e dopo questa cavallo g6 è una questione di organizzazione dei pezzi neri alfiere b2 lascia al nero la possibilità di giocare quindi re d6 per lasciare una nuova casa libera al cavallino e6 e quindi la partita prosegue semplicemente con un cavallo che saltando l'inc5 attacca un pedone in d3 che adesso è indifendibile come avete visto gli scacchi sono sempre un gioco creativo affascinante dinamico e questa partita vedete che anche a grandi livelli piace sempre giocare in modo tagliente piace anche giocare in modo tagliente non soltanto mettendo mosse di teoria all'interno della posizione ma giocare appunto per creare squilibri e vedere un po chi è superiore dal punto di vista tattico spero che questo video vi sia piaciuto la partita a me è piaciuta parecchio e l'invito è come sempre quello di seguire i social di matto scacco ciao a tutti